È partita da Pomezia l'indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla scoperta di un giro di carte di credito clonate in tutta Italia. I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno arrestato 7 persone e denunciate altre 8 a piede libero. Gli accertamenti hanno tratto spunto da una comunicazione inviata dall'Ufficio Sicurezza di una società che gestisce il circuito di pagamento con moneta elettronica, con la quale venivano segnalati dei tentativi di pagamento effettuati in un'azienda di autotrasporti di Pomezia, risultati anomali per l'entità dell'importo e per l'origine estera della banca. È stato così subito appurato che alcune carte erano state adoperate per effettuare pagamenti fraudolenti in altre parti d'Italia. L'analisi dei flussi finanziari ha consentito di collegare le singole condotte illecite e i responsabili con le informazioni provenienti dagli istituti di credito. In una circostanza i criminali avevano provato ad eseguire senza successo un pagamento da 500.000 euro presso un rivenditore di auto con una carta intestata ad un cittadino degli Emirati Arabi. I codici sono stati rubati anche ai residenti di altri paesi europei. Il totale delle somme illegalmente transate ammonta circa un milione di euro.